benvenuti in un nuovo gameplay su fortnite battle royale buona visione sono manuelito caro mio amico adesso te lo dico uscar oro holy fuck no siamo anche vicini alla seffra siamo vicinissimi comunque io non ho ancora trovato un cazzo di niente cioè parte un mitra e un cecchino mitra no no morta luca momenti mi faceva ammazzare costruzione avanti ma andiamo di addosso da me da me da me grande milco grande milco prendi lanciagrenate grande milco prendite vendere 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 mi sa che ci sia qualcuno sei te che carichi mi sa di si ah no si si andiamo 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 ma la sto mangiando la sto mangiando no fa schifo addosso 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 madonna quanta Mirko vieni qua e beviti questo bevitero quello c'è anche un altro tipo quando v'è no grande esplosivo aspetta che mi bevo sto bagaglio ahia ah ma l'hai lasciato Mirko allora dammi un po' di colpi dell'esplosivo tipo 10-15 così oh oh arrivo aspetta ma aspetta ma vai addosso con l'esplosivo vai 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 è morto è morto è morto è morto finito i colpi ma ma la via aspetta mi puoi dirgli che la chiamo tra due minuti bravo che ti richiama tra due minuti comunque ooooh qua non c'è nessun numero non c'è nessun numero niente eh ma puoi andar di là sto facendo una partita ma merda te lo dico sempre io buono ma dopo un po' mi rompo anche i coglioni eh no te lo metter giù eh no te lo metter giù ah ok dove sei? da me da me Mirko oh merda sta già andando cioè io non ci credo vai 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 ha pochissima vita grande Mirko esplosivo vittoria reale se ti è piaciuto il video clicca mi piace e iscriviti ci vediamo al prossimo video bella ti è piaciuto Grazie a tutti.